Ah, è un mestiere stupendo, ma è veramente un mestiere stancante. Si deve alzare presto nelle ragazze, soprattutto la mattina, e poi si va a letto mai presto, mai presto, ventuno, si dice sei a casa alle nove. È un mestiere stupendo, ma è un mestiere che deve essere forte, perché se no può fabbricare, non lo so dire, delle persone che sono disperate perché non lo tengono a quelle che vogliono essere famose, avere delle belle parti. Un mestiere dove deve lottare, lottare con le altre, o con le altre. Per esempio io avevo un film che si chiama, in francese, non so in italiano, Le Cousin Cousine, è stato scritto per me il prezzo di Tachela. Il contratto non era firmato, purtroppo, ma sapevo già quanto andavo a prendere. E poi Toscan du Pampin Tigros, un produttore francese, che era sposato con Marie Christine Barron, si stavano separando e in regalo della separazione, lui ha dato il film, e che io sono rimasto senza film. Dunque, tu hai freddo il tuo figlio di Regno, come dice? Può farti... Dilo in italiano. Ti fa diventare un mal di stomaco. Sì, deve... Si, si, sei... ecco, dunque è un mestiero molto difficile poi noi donne io quando ho avuto 50 anni un po' di tempo fa il mio agente inglese mi ha chiamato oh ero felice, ho detto forse mi dà qualcosa di interessante mi ha detto guarda Andrea, buongiorno tu hai 50 anni sei fottuto, è finito dunque non mi voglio più occupare di te e così e dunque dici ma insomma 50 anni uno non ne vede, no 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 per noi in inglese, basta e dunque non ho più da gente in inglese, è tutto così e la lotta adesso alla mia età, con 71 anno è di trovare delle parti grazie, grazie, grazie bisogna dire che il tuo nome compare ancora molto anche in televisione in Francia faccio teatro una volta di tanto adesso c'è un progetto di comedia geniale speriamo che si faccia faccio televisione due, almeno due all'anno e per fortuna l'anno scorso mi è tornato il cinema e ho fatto due film uno con Omar Sy non so se è conosciuto qui in Italia un famoso attore nero che si chiama Knok tratto da un testo teatrale di Gino Bonardi è creato da Jouvet è creato da Jouvet dunque vedete Jouvet e Omar Sy di Nero e poi ho fatto un film molto bene in costume su una realtà francese delle principesse all'epoca di Luigi XIV Luigi XIV dunque queste principesse di diverso paese europeo che prendevano per andare a sposare il figlio di un paese e il figlio di un altro che così si cercava di evitare le guerre questo film è molto bello si chiama Le Change il cambio delle principesse non so se uscirà in Italia e lì faccio una signora che è molto nota in Francia la principesse Palatine che ha scritto molto che era molto infiduci con Luigi XIV e che è morto all'epoca molto vecchia che porta in questo film molto umanità e dice delle cose tremende che le principesse sono solo dalla carne delle merci delle merci ecco e allora che succede che adesso ho cinque progetti di film speriamo bene speriamo bene io devo dire che amo solo lavorare è la vita lavorare ti tiene per il dono ti fa a chi lo dice ecco dunque e poi ti alza la mattina c'ha la mole di andare a lavorare ti stanchi sei stancho sì però però c'ha la fiama molto bene guarda per me c'è il lavoro e quando come non so che fare quando non faccio niente mi sono invitata una cosa lo dico non venirete ma mi sono invitata da 11 anni un festival nella mia città del sud della Francia ex-en-Provence e questo festival tre giorni venerdì sabato domenica e dunque ho creato un'idea e la faccio e che apro dei giardini privati dunque andiamo dalla gente per conoscere il patrimonio lì metto dell'arte per pittura scultura installazione fotografia un musicista in ogni giardina poi dell'opera poi della danza poi degli attori che dicono del test accompagnato o no dalla musica e poi la letteratura con degli scrittori che vengono a parlare dell'opera